Ragazzi, ci siamo per la live? Ovviamente sto scherzando. Raga, abbiamo venuto in questo nuovo video di Roblox. Oggi, raga, facciamo... sono tornati sulle stagioni horror. Praticamente, raga, eh, ci assomiglio un po'. Ma, raga, perché mi sento sta scherzando? Che brutta. Ok, raga, è uscita la nuova storia di Airplane 4. Oggi, raga, la faremo insieme a noi. Infatti, raga, è uscita il 18 dicembre e, raga, poi stai fatta in nuova nuova. Però mi viene solo in faccia, raga, aspettate che faccio. Molto meglio. Cos'è sta musichetta? Raga, ovviamente ho la tastiera nuova, molto bella, multicolore. Adesso posso fare il video molto bene. Ok, raga, questa è la mia skin. Ci siamo. Uh, raga, c'è uno shop. Vediamo com'è. Salve. Buonasera. Verde Monster. Madonna, raga, 600 Robux. Come? Ok. Andiamo, raga, in vacanza. Andiamo noi in vacanza. Ho un bagaglio rosso. Che bello. Raga, ovviamente questi non sono i miei fan. Sono il tetrare. Vediamo se sono l'italiano. Questo non serve al pubblico, raga. Ok, mettiamo un altro bagaglio qui. Posso metterlo? No. Ok. Andiamo in una gate. Andiamo in questa qui. Dai, ragazzi, ci siamo. Ci siamo, raga. Vediamo se c'è qualche italiano, raga. Raga, l'ho scritto. Se mi serviranno, vediamo. Ok. Partiamo subito con questa bellissima storia, raga. Spero che non lo spergano. Ovviamente non lo spero di perdere. Perché altrimenti non sono un momento che ho fatto con te le storie. Ok. Partiamo, raga. Siamo in sei. Ok. Va bene. Airplane quattro... Raga, guarda, la moglie veramente sta in nuova. Questa, raga. Non sto... Ovviamente non sono eita. Ok. Svegliatevi, svegliatevi. Uove e bacon. Ma perché mi chiamo bacon, questo qui? Che cosa? Non ditevi perché mi chiamo così. Oggi è il gran domani, è il grande giorno. Vai, perfetto. Partiremo per l'aereo. Ho sentito dire... Dobbiamo solo mettere... E infatti, dobbiamo fare i bagagli. Perché... Ah... Ma raga, allora nel letto che stavo dormendo. Ok, guardatevi che stanno davanti. Che poccorone. Ok, dobbiamo scendere di sotto, ha detto lui. Ok. Dobbiamo scendere di sotto. Bello questa casa, raga. Non è brutta. Eccoci. Ok, infatti, devo fare il nostro... Questo è il mio bagaglio. Sì, per io il bagaglio. Ok. Ok. Ci sto dicendo che abbiamo poco tempo per fare il bagaglio. Sì, metti... More game. Ok. Ah, no. Prima hai fatto colazione e poi facciamo il bagaglio. Perfetto. Ma non c'è niente di colazione. Ok. Ti preparo degli hamburger, raga. Ma perché te colassi una delle hamburger? Ok. Di parola, di parola in cucina. Ok. Scegliamolo. Dove si vada... Ok. Raga, infatti, è di fuori che sta cucinando. Vedete la mia freccia? Guardate qui. Adesso che cosa facciamo qui dentro? E infatti... Dove sono i miei vestiti? Raga, vado a mettere anche gli vestiti perché altrimenti, raga, potrete morire. Raga, è una brutta cosa. Ok. Abbiamo 45 secondi per esplorare la casa. Allora, raga, questa è la camera delle donne. Che belle, però, raga, questi vestiti, raga. Ovviamente sto scherzando. Andiamo nella camera dei mask, va. Vediamo che qualche vestiti ci sono. Oh, qui, raga, è lì dove ho dormito io. Ok. Allora... Uh, raga, penso che era male di brossa. Che fai lì? Ah. Raga, posso prenderla? No. Mala col biscotto. Le scarpe delle Vans, raga, che bello. Anche quelle rosse ci sono. Un cappellino giallo, anche occhiali da sole gialli, una malletta rossa con un fulmine, una malletta verde con del modo di roblox e dei pantaloni molto belli. Questi cassetti non si possono attire. Raga, c'è ancora un tipo che sta dormendo. Oh, finalmente ti sei svegliato, qualche miseria. Devo fare i bagagli? Svegliatemi, devo fare i bagagli? Iniziamo a fare i bagagli. Delle Vans bianche. Raga, qua non ci tende a portarsi quella delle ferie, ma raga, no. Che cosa sto facendo? Infatti, raga, eccole qui. Ok, prese. Andiamo a mettere giù nel nostro bagaglio. Perfetto, raga, andiamo. È semplice, raga. Ok. Perfetto. È un bagaglio messo. Raga, che bello. Questa raga è la foto del capitano della pilota. Non è questo il nostro caso, no? No, raga, non penso, però... Vedremo, raga, vedremo. Ok, eccoci qui. Io ho finito, avete messo le vostre cose? Sì, raga, tutti ho messo le loro cose. Perfetto. Allora, perfettissimo. Pantaloni blu, questo l'ho visto, quello dei maschi, credo. Prima di vedere quello delle femmine, perché... Ah, non è quello delle femmine. Ecco qua. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, 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 cari, 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 cari. Siamo prima, raga, a mettere i bagagli, wow. Yeah, ecco fatto. Ho già dei bagagli messi nella mia valigetta. Raga, che carino. Raga, è fendissima sta cosa, guardate. Wow, raga, è proprio bello. Ok. Raga, io ho fame, eh, quello di hamburger. Muoviti, papà, eh. Papà, dad, babbo, muoviti. Dammi un po' di acqua, c'ho sete. Dammi un po' di acqua. Niente. Paraglia che sto cucinando qualcosa, ma non so. Meglio non pensare a queste cose. Oh, ma perché la maglietta con un ricordo? Cosa mi c'entra a me? Raga, tutte le robe da femmina le devo portare? Non maschi, niente. Oh, mamma. Cosa sto facendo io? Raga, non sono una femmina, l'avete capito? Non sono una femmina. Ah, ecco qua. Completata. Raga, siamo fortissimi. Siamo fortissimi. Ok. Raga, c'è un'immagine della cruise. Questo è il rapporto di ingresso? Sì, però non posso uscire. Raga, da casa non posso uscire. Raga, è bella grande sta casa, eh. Queste le camere. Ah, ben finito. Allora, adesso che dobbiamo fare? Andiamo a cosa scrivono. Yes, go, 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 go. Sì, vai, 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 vai. Ok, che schifo. Va. Oh, raga, vi ho detto che gli hamburger sono pronti, raga. Raga, vedete che voi quella cosa che ho visto io? Perché c'è l'hamburger marcia, raga? Torniamo. Andiamo fuori. Andiamo fuori, sì. Andiamo. Oh. Oh, raga, che bella la piscina. Bellissima. Raga, bello questo giardino. Raga, mi sa che dobbiamo sederci al tavolo. Ok, eccoci qua. Eccoci qua. Finalmente sono pronti tra poco per mangiare, raga. C'è anche una radio qui. Non so cosa serve. Dobbiamo sederci, raga, per mangiare. Raga, manca qualcuno. Raga, manca, and. Dove è and? Eccola qui. Sono tutti pronti per mangiare. Non è vero, ti sa, l'Arc de BGVGVD. Vabbè. Usmano 653. GF 0. Oio. I. Senti, però la caccia non mi sta. Ecco il vostro hamburger. Che bello, si mangia. Allora. Sono affamato. Infatti. Quello che sto per dire. Grazie per il hamburger. Pena, pena, pena. Raga, aspettaci registrando alle 12.38. Raga, mi sono più fama che la vita reale. Ok. Che buono. No, raga, non voglio quell'hamburger. Che schifo. Uno per Andre. Uno per me. Che bello. Raga, ho beccato il panino marcio. Non ci posso credere. Raga, ho beccato il panino marcio. Raga, non devo mangiarlo. Che schifo. Raga, ho paura di mangiarlo. Lo so, ti sa che mi stai guardando male. Ma non posso mangiarlo, questa cosa. Come potrei mangiare questa cosa, madonna. Perché raga, mi è beccato il panino schifo. Raga, fa male. Fatti. Non devo mangiarlo, raga. Non devo mangiarlo. Fa male questo. Non lo devo mangiare. Raga, mi è beccato il panino schifo. Uffa. Faccio un condotto qui sotto. Ci posso andare? Sì, sì. C'è qualcosa di segreto? Oh, il segreto! Wow! Wow! Non so che vuole raga questa cosa. Ah! Dove per forza mangiarlo? No. Ok. Che schifo di griglia. Dovamo scappare di qui qua. Perché? Ah, ho capito, raga, dobbiamo partire, dobbiamo partire. Raga, ero su per partire. Muoviamoci. Non possiamo entrare dentro casa. L'ho bloccato in giardino, raga. Sei qui, Dead. Dov'è Dead? Dov'è Dead? 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 Perché non c'è un panino maccio. Che schifo. Ma, raga, non voglio mangiare. Ah! Non voglio mangiare. Non devo mangiare. Andiamo, raga, andiamo. Ok. Eccoci qui. Questo è un garage? Come un garage? La stiamo schifando. Raga, c'è qualcosa qui? Dei card store a destra, ma non c'è niente. Perché ci sono degli aeroplani? Scusatemi. Perché ci sono degli aeroplani? Ehi. Vabbè. Raga, non posso sedere, io. Eh, raga. Devo mangiare il panino, mi sa, raga. Ecco. Raga, non posso sedere, io, raga. Come fate? Raga, non so cosa si fa. Ok. No, Dead. Ma come, Dead? No, raga, dobbiamo guidarlo, no, non ci posso... Ok, raga, dobbiamo guidarlo, perché non mi ha fatto niente, porca miseria. Ok. Ci siamo. Raga, non tocco niente, perché altrimenti non posso fare niente. Ok. rispetto. No, raga, dobbiamo evitare l'ostacolo. Come faccio? Raga, raga, raga. Come faccio a evitare gli ostacoli? Ehi. 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 Questo è il centro, raga, non credo. No, c'è un po'. Ok. Comunque per questo. Ok. Oh no. Vai giù, vai giù, vai giù. Oddio, come faccio questo? Aiuto. Raga. Niente, raga, ho sbattuto. Porca miseria, raga. Ecco l'aeroporto, siamo arrivati. Eccoci qua, finalmente. Oh, raga, eccoci qua. Finalmente ce l'abbiamo fatta. abbiamo ovviamente con il nostro bagaglio. Andiamo in vacanza, raga. Andiamo in aereo. Andiamo. Andiamo. Ehi. Raga. Ok. Andiamo. 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 Segui, Ted. Uffa! Segui, bambu. Bye bye, Ted. Uffa! Eccola, raga. Guarda le strisce. Raga, c'è una macchina! aiuta raga con l'aeroporto raga mi trovi sento uno pieno di macchine come facciamo? eccoci qui ok raga ok raga andiamo ok facciamolo ecco qua ok non prezzare il bagaglio ok potete andare dall'ora mi sa che ci dà il ticket vero? yes eccolo qua il ticket ecco qua eccomi qui ecco qua dove mi intero io? che è successo? eccomi qua dai ragazzi muovetevi raga non potete entrare senza il ticket dai ragazzi forse l'ha capito raga forse le lo dico raga the ticket in the crew member the ticket in the crew member niente raga non l'ho fatta in tipo dirglielo sono morti niente raga si è rimasti in due raga non potete entrare il metal detector oh no ciao voi siete gli ultimi passeggeri di questo aereo rohamas non preoccupatevi finiremo in tempo cosa dobbiamo fare adesso? non detendo dentro il metal detector e buona fortuna a tutti io raga non c'è niente raga andiamo dai non è un problema per favore aspetta un minuto oh no a me non mi piace questo rumore cosa intendi? oh no raga scappiamo ci sono delle guardie ciao salve voi dove credete di andare? lasciamo andare in aereo perché? oh no raga è un problema è un po' di... raga dove siamo finiti? no no la massa? la massa? abbiamo la massa? oh raga dove siamo? ma ma cosa devo fare? aspetta posso scalare qui? ma qua ci sono tre condotti ma non so questo è chiuso questo è chiuso questo è chiuso ma non devo andare qui lo devo mandare raga? scusate che è uno dei tre condotti ma raga non so cosa fare cos'è quella cosa rossa infatti raga cos'è quella cosa rossa? raga cos'è quella roba lì? scheletox ma chi è scheletox? raga raga è bruttissimo che brutto che cosa vuoi? sei gigantesco? ti farò pezzettini ricordatelo no è ragazzo con noi? perché? non preoccupatevi vuole che creiamo un'arma sua raga non so che arma sta dicendo lui altrimenti sarà la vostra fine no no dai tista non trovi l'arma andiamo ok raga cosa sono quelle robe lì? che fazzettissimo raga cos'è? raga per ucciderli raga per cari rocchie rossi non ucciderli raga dedi perfetto raga erano uccisi raga raga Dice che uno di questi conosce è un'uscita Vediamo un po' Forse in questo qua Sì, eccolo Dove siamo, raga? Devo seguire la freccia Questa è l'assata dei bagagli Ok Che devo fare? Ecco, raga, sono l'assata dei bagagli Dad, vieni qui, Dad Aspetta Dov'è il babbo? Raga, che sta succedendo al babbo? Raga Raga, è stato infetto Raga, scappiamo, scappiamo È stato infetto anche Dad Non c'è, non c'è Raga, non lo so se è un parkour questo Per evitare i bagagli, non lo so Raga, non ho ovvi Ah, raga, mi interi i bagagli? Un bagaglio rosa? Evitato Andiamo Uh General poncio Faccia fumi Raga, hanno visto un airplay 3 questo tipo Mi ricordo di lui Raga, dove siamo? Dove siamo? Mi sa che siamo sopra il tetto dell'aeroporto Credo Hai delle buone notizie? Ti prego, ti prego Sì Sì, raga, dobbiamo fermare questa creatura Infatti, raga, con la roba lo si chiama Skeletox Qualche roba del genere Raga, dobbiamo fermarlo assolutamente Sarà la fine per noi Sarà la fine Raga, ci manca pochissimo Raga, siamo con l'H Siamo con l'H DLB Raga, siamo con lei Raga, dobbiamo fare qualcosa Sarà sicuramente la nostra fine Segui General Poncho Ok, andiamo qui Ui Che paura Raga Ok No, raga, dobbiamo ritrovarsi Dobbiamo ritrovarsi Ok Raga, chi è sto tipo adesso? No, raga, non era che Skeletox Io mi allontano Sono dietro lì Siete attenti Questo tipo mi sa che sono infettato Aspetta Però ha qualcosa di familiare E cioè Che brutto Ronald Raga, cosa? Che cosa? Raga, aiuto Aiuto Lasciando un bel mi piace Raga Lasciando un bel mi piace Iscrivetevi al canale Ok Perfetto Allora Allora Dobbiamo partire per la missione Ok Perfetto Raga Aiuto 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 Raga Raga Chi seguo raga? Ronald Raga seguiamo Ronald Mi fido di lui Raga seguiamo Ronald Mi fido di lui Sembra un tipo tosto Ma non è vero Ok Raga seguiamo Ronald Seguiamo Ronald Raga Raga Per vincere Raga con seguire Ronald Se questo cosa va bene Va bene Ok Ok Buona fortuna Buona fortuna a noi Raga Dove siamo? Eccoci Dove siamo? O dove ci hai portato Ronald? Raga Ha una faccia molto brutta Diretti uomini infetti Raga Scappiamo Prima che ci prendano Aiuto Scappiamo Scappiamo Scappi Andiamo qui Raga Andiamo qui No Questo è un piccolo ciclo No Raga andiamo qua Forse è la strada giusta Raga Prego che sarà la strada giusta Ecco Ma Raga Questa raga è un altare Con la faccia di Skeletox Ma raga È morto? Ma Che cosa sta succedendo ai suoi occhi? Raga Che è successo raga? Raga Raga ma Siamo in ospedale Raga Seguiamo Ronald Sei tu Ronald? Dottore Perché siamo qui? Sì Sono io Ma cosa dottore? Seguimi per favore Che sta succedendo? Raga Raga Cos'è questa cosa? È emergency room Stato di emergenza Ronald E io Scusa bambino I tuoi parenti Non sono stato bene No L'aeroplano è crociato No Raga Quelli non Raga Mi sa che quelli morti Dovrebbero essere i genitori di Ronald Credo E sono crociati contro l'aeroplano Ok Poverini raga Mi dispiace Mamma Papà Io sono un bambino Raga Ma Skeletox È tutta per la tua Io posso tornare ai tuoi parenti Però Devi accettare la mia richiesta Che richiesta Farò per Ronald Ti prego Io non accetto niente Chiami Dimmi pure Raga Ti sta dicendo che Se eravamo nell'aeroplano Eravamo morti anche noi Questi due volte arriveranno ai tuoi parenti I tuoi genitori Ok Raga Ecco perché sono in ospedale Ecco perché Ok Eccole raga Questo è per te Mamma e papà Sono i tuoi genitori Sono morti Raga Replay 4 Raga c'è boffata Raga Raga L'ho fatta Non ci posso credere Oh Raga Che è successo Raga Era la sed Infine triste Ok Ok ragazzi Direi che Per questo video Ci fermiamo qui raga Spero che vi sia piaciuto Se potete vedere altri video di me di Roblox Così la giù ti dice Mi piaccia Mi piaccia Quindi vi lascio il mio link di Roblox La mia amicisa Mi ha il link in descrizione Raga E ci vediamo Raga Non posso mi dare Ci vediamo Ok Ciao ragazzi Ciao ragazzi